Pronto? Sì, buonasera, in linea, chi è? Franco. Franco. Senta, io, papà, volevo discutere qua sempre, volevo dire se era contento di aver criticato la società, io vedevo questa trasmissione come un film di Frank e Cicci, per farmi due risultati perché sembra che mi fa ridere, ma già mi sono pentito di aver telefonato perché non mi abbasso a parlare con lui. Eh, perché? Che cosa, qual è il problema? Perché è un gufo, dice, calzate a tutto spiato, si contraddisce, cioè, è una contraddizione assoluta, quindi mi sono pure pentito. No, no, ma si figuri, ci dica dov'è la contraddizione perché così può avere un confronto. No, non c'è problema. Una volta dice una cosa, un'altra volta dice un'altra cosa. Qual è questa cosa? Mi dica, mi dica, mi dica quale cosa, mi dica, no? Ah, sui giocatori, sui pre... Quali giocatori? L'allenatore, l'allenatore di Francesco, prima non era buona a niente. Quanto? Ma quale trasmissione ha visto? Senti, sembra, mi devi far parlare. Sì, ma se tu dici una cosa, mi devi far parlare, sembra, che... Allora, facciamo una cosa, guarda, se tu sei... Sì, se tu... Ha avuto un'altra cosa, poi ti sei dovuto scusare. Sei una contraddizione assoluta. Vabbè, facciamo una cosa, sicuramente... Ieri è telefonata a Rete 8, hai detto, hai criticato ancora la società, o se ne vanno, che anche noi non toccano nulla, ti prendono il pescario in eccellenza. Ma tu non ti dici a te, il pescario, te ne prendi un cazzo di niente, ma non ti cogli. Quindi lei... Ho capito buona po'. Lei suppone questo, però, Franco, sinceramente, non è del tutto esatto. No, no, guarda, Sergio, tu sei una persona seria. Io no. Sì, sì, ma anche Gianfranco è una persona seria. No, no, io no, io no, sta apposto. Ce la conto. A percare, ne puoi vedere, stai soltanto a criticare. Vabbè, l'importante è che tu, adesso che parla, sei soddisfatto. E poi quella trasmissione che hai detto, ci mettiamo tutti quanti a 90 gradi, è la modo di dire. Perché non è bello. Cioè, io per tutta una vita non è che puoi ringraziare. E' un conto. Vabbè, io... Ma qua nessuno si mette a 90 gradi. Io seguo in pescarla a 40 anni, non mi sono messo mai a 90 gradi. Io da 50, quindi aspettiti in fila, mette da rete e stai porti. Eh, ma non credo. Eh, beh, che purtroppo sono arrivato a pescare il 13 agosto il 1960, stavo dentro lo stadio. Oggi abbiamo 2001. E se ti dispiace, comunque, quando hai da dire qualcosa, tu fai una cosa, noi ci incontriamo e ci parliamo e mi le dici in faccia queste cose. Tu tutto quello che hai nell'astio dentro, che io non mi puoi vedere, non è un problema. Basta che me lo dici in faccia, devi avere la forza di guardare la persona e di dire in faccia hai sbagliato in questo. Troppo bello dietro a un telefono dire tutte le cazzate che ti dici, capito? Tu stentino a freghe di cazzate, che io rispetto, tu dici le cazzate, tu le dici le cazzate e a te dici in cantipatica, ma non ha importanza su una persona, ti è chiaro che non puoi avere il consenso di tutto. Se ci sta uno a mezza c'è, va bene lo stesso, non c'è problema. Hai criticato la società perché ha licenziato Falcone? No, io non ho detto di questo. Io ho detto che... L'hai criticata la società? Ma perché, ma perché, ma perché, vabbè, sta apposta, allora si vede che ha mi mangiato la società, tu, stessa la società. È ovvio che... Gli mancava un anno per andare in pensione, l'hai criticata la società. E che vuol dire? Uno dice, io ho fatto solamente un esempio, non è sbagliato, se è vero, ma poi, ma perché la società se sbaglia non si può criticare? Qual è il problema? E se ne frega che ha licenziato un'indipendenza, la società. Beh, faceva parte Franco dei discorsi. Vabbè, sta apposta, hai ragione tu, sta apposta. Vabbè, sta apposta, hai ragione tu, quello faceva parte del discorso sulla riconoscenza. Insomma, ti devi fare i fatti tuoi, praticamente, non devi sempre solo criticare, questo è il senso. Ma perché devi sentire per forza quello che dico io, ci sarà nazionale, a che cosa serve? Io non sono d'accordo su quello che... Perché non c'è stata questa, io non lo so, se ci ti mettono, dimmi tu dove è stata la critica a questa sera. Sì. Comunque, va bene lo stesso, andiamo avanti. Allora.